5,3 milioni di anni fa, il Mediterraneo non esisteva. Quello che ora è un mare era allora un vasto bacino asciutto, disseminato da strani laghi di cristalli di sale. L'unica cosa che impediva all'oceano atlantico di riversarsi nel bacino era un tappo di roccia all'estremità occidentale, una diga naturale. Ma tutto il peso dell'oceano spingeva su quella diga, in quello che oggi è lo stretto di Gibilterra. Qualcosa doveva cedere e 5,3 milioni di anni fa qualcosa ha ceduto. Fu la più grande cascata nella storia della Terra. Ma la diga ormai aperta era stretta e il bacino vasto. Ci vollero circa 4.000 anni perché il Mediterraneo si riempisse. E quando lo fece, si riempì anche di vita. Delfini Tartarughe marine Razze E squali Ed essendo disseminato di isole, questo è un mare con molte coste. Possiamo capirne il perché, andando indietro nel tempo. Molto tempo prima che la cascata formasse questo mare e prima ancora che si formasse lo stesso bacino del Mediterraneo. 250 milioni di anni fa, tutte le terre del nostro pianeta erano unite e formavano un unico grande continente, la Pangea. Nel tempo, le forze che agivano nelle profondità della Terra, nel suo nucleo fuso, separarono la Pangea. Si formarono nuovi continenti che andarono alla deriva per il globo su placche tettoniche giganti. La placca africana e quella eurasiatica si avvicinarono. Dalla loro collisione si formarono delle montagne. su quello che sarebbe stato il fondale marino del Mediterraneo. Dopo la formazione del mare, solo le cime di queste montagne restarono emerse, ovvero le isole. Ce ne sono a centinaia tra quelle che oggi conosciamo come Grecia e Turchia. Le isole Egee. I popoli del Mediterraneo hanno imparato a convivere con le inarrestabili forze della natura, a volte amiche e altre nemiche. Ancora oggi, l'Etna è un tetro simbolo della geologia che ha creato il Mediterraneo. L'Italia si trova tra la placca africana e quella eurasiatica, sulla zona di assorbimento d'urto quando si scontreranno i continenti. La placca africana sta lentamente premendo sotto la placca eurasiatica. Nelle profondità della superficie terrestre, il calore intenso fonde la roccia. Negli ultimi 7,5 milioni di anni, la lava è fuoriuscita attraverso fessure della crosta terrestre e ha creato una catena di vulcani, compreso il più famoso vulcano della storia. Il Vesuvio.